e poi a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft oggi faremo una vanilla su minecraft ragazzi inizia a prendere un po di vino di legna e speriamo che magari questo qua che cosa non so che cosa ci sarà ma va bene la macchina non servirà a niente ovviamente ma un paio di butto non serve a niente aia no che scusa raga ma che c'è ma il mondo aia un problema di connessione ragazzi di sicuro questo o qualcuno avrà usato qualche hack qualche bug o non lo so ragazzi ma chi se ne frega dai continuiamo inizia a prendere un po di legna per fare una bellissima casa ragazzi la casa importante ricordatelo sempre allora dobbiamo andare a cosa che muori tu c'è qualcuno fa no dai ma come ti permetti ma io voglio fa botti io fa botti di picchio vieni picchio o sto film e visce se da una gallata lo picchio fuori tu poi tutti è morto a ragazzi sarati sicuro un problema di connessione cioè o quello avrà usato qualche hack qualche bug ma non lo so ma chi se ne frega dai prendiamo tutta la legna di questo albero belloso tutto bello andiamo a fare troviamo un ville villaggio di villager o cose aia aia perché c'è una tomba scusa au ma che ca... no raga 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 una tomba cioè di sicuro sarà un problema di connessione boh chi se ne frega continuiamo con la vanilla ragazzi eh pipistelli scusa vabbè è tutto sto mondo è tutto pagato ragazzi raga ma che mondo sono finito oh cosa aspetta aspetta vabbè chi se ne andiamo uccide qualcuno vieni cos'era stato vabbè muori tu dammi tutto quello che voglio ti prendo a pugni grazie aia oddio ma dove sono e vabbè ma sto spanato in culo al mondo che sta succede alla mia vita e siete credo su precipitare ho visto qualcosa mamma mia ci potevo fa una brace aia aia non so più cosa fare raga aia stracca stracca ci stanno tracciando o mi lasci diventare il mio loot non so chi sei però chi c'è sicuro ha un problema di connessione è sempre la mia roba roba vieni da me ci dobbiamo divertire vieni dobbiamo divertire vieni da un problema di connessione sicuro è un po di fila venite venite a fa batte come vai mi vado a picchiare mi vado a picchia veniti picchio ma che c'è una canna pesca scusa il mondo bag troppo bagno il film è presto sono infiniti scappiamo scappa scappa stacca 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 che ragazzi dobbiamo solo andare a dormire prima che sia troppo tardi dobbiamo trovare qualcosa qualcosa perché c'è della lava vabbè non ne voglio sapere maniamo un mucca bella frate bella uiii ma che cosa moriamo raga sono morto aiuto che cosa sto facendo no ma qualcuno sta volando mi sa perché sto volando no no ma quanto non ci sono morto sono bloccato il cielo lo avrete Oh cazzo Oh cazzo Ok raga Mi baggo sempre Dove spono No ma cos'è Ma che c'è Aiuto Ma chi c'è Ma c'è qualcosa Bella frate Il mio lutto Meno male che so sponato vicino Dai gas Abbiamo Mi picchio un po' di mucche Basta che non succede qualcosa di strano Ma la spada di nelle vite Grazie Ma grazie cielo Grazie Ne te rite ragazzi Ce l'abbiamo fatta Il mondo è completamente ufficiale Andiamo a Lendo Dai raga C'è Gesù Bella frate Oddio Ma che ci fanno da me Oh merda Oh merda Oh merda Oh merda Io mi diffuso qua dentro Guarda che io mi distocio Mi distocio No Ma perché Perché Che pò lo vedete da me No 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 Non so Penso che sia un problema Difficile Penso che io metterò qua dentro Eccomi qua Sono al sicuro Mi sicuro Che cosa sta succedendo Oh merda Oh merda Me la sveglia Un letto Grazie Non posso dormire Qualcuno mi ha dato M'hanno dato un letto Ok Ora ragazzi Dobbiamo costruire Adesso andare In miniera Prima di tutto Bocra doterata A casco Sì Andiamo in un posto Intanto i gas E la madonna Meglio Che co Cos'era Cosa c'è Ma chi c'è Raga C'è qualcuno nel mondo No 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 Non è un problema di connessione Ho visto tutto C'è qualcosa Ma non so cosa Perché nel mondo Sono solo io Vabbè Marco Perché sto gioco Continua a dropparmi le cose Vuole mandermi una sfida Il tipo No Ma muoiono tutti Sì Quello è il passimo Che dovrò fare Con me Aia Aia E' morto pure Nel coso Che è appena successo La cosa È appena Ma basta I sì Sì Sono finiti Non si ne vogliamo mettere Aia E la madonna Mi calmate Ma possiamo fare Parliamo Ne parliamo Ne io scappo Bella bella Raga Io me ne vado Addio No Lasciatemi mangiare Vi prego Non voglio morire Sono troppo giovane Aspetta Oppure Aia Un'ora che io svengo Ma che sta succede? Ma che succede? E che il fuoco prende fuoco a caso? Vabbè Ovviamente I problemi Di connessione Ma questo qualcuno Dovrebbe aver stato Qualche hack Perché Non lo so Ma io me ne Bella Frede Muori Faccia botte Faccia botte con te Muori tu Ma io Te ho dato Uno schiaffone Che to Ti arresto Lo sviluppo Che è stato Scusa Ma c'è un tipo Aspetta che lo voglio salutare Bella Bella Come ho fatto a missa con l'arco Vabbè Non lo voglio sapere Oh 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 Calmi 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 Beh Se mi sono andato Ovviamente I suoliti I fostuti Però se il gioco Ah se è qualcosa che non va Non può essere un problema di connessione Perché Cioè La connessione è solo bo No Aia Oh Oh No io scappo Scappa 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 mettiamoci subito a farmare no no però qualcuno ma che mi ha fatto di male io sono troppi vabbè quanti erano pesciolino d'arcinio questo cazzo ma quelli mi pillano ma quelli mi piccano datemi la nederite aiuto nederite aiuto nederite aiuto c'ero ben qua c'ero bella oppure devo scappare cosa che mi ha fatto fare no la mia roba no dai che è stato ritardato che cazzo però dai e no però qualcuno mi aiuti perchè da tutto a fuoco questo mondo? questo mondo è un erro dai ma vaffanculo no c'è qualcuno qualcuno ci deve essere chi c'è? no ma io esco in questo mondo dopo ma questo non mi piace questa cosa ma poi pesci si vede piscina qua no ma non sono pesci oddio a caso così io dovrò morire in pace andare nel giulag e vincerlo piccata 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 questo è una tortura sto mondo no c'è qualcuno raga basta ma non esistono ora dei problemi di connessione c'è qualcuno qualcuno mi aiuti ed almeno tu e sta nel mondo aiuto ma basta e scappo c'ero brand c'è qualcuno invisibile appena che sto facendo almeno così loro i fish muoiono facciamogli chi può uccidere c'è 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 scuola Tu Ora Qualcuno mi fa ti prego tipo che ci sei Eeeh Oh merda Grazie ma chi è Ma che ca... Fede Fede Oh Ma è veramente te Che cosa sta succedendo qui? Cos'è? Guarda Guarda che gli hanno tirato l'accanto Vediamo se ci fa cosa Questo video ragazzi che è vanilla secondo me Erobran mi vuole morto Erobran che cosa vuoi da me? Avanti vieni 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 in faccia e facciamo i conti Vieni vieni Perché non provi a fare le cose con me in faccia Razzati puttana di Erobran Vieni Vieni Erobran Prova a dirmene le cose in faccia Mortacci tua va Vieni Vieni C'è qualcuno? Oh 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 Erobran Almeno tu qualcuno che mi risponde Nessuno Vabbè ragazzi Per me Dopo potrei anche finire il video Cioè Non serviva niente raga dai Cioè ammettendolo però Un'altra tomba Forse ci dobbiamo entrare Sì cazzo entriamoci Sarà il buco italiano Perché se non è stato qui dico così vi è accato tanto per ridere Pazzo da me Allora ragazzi possiamo continuare con la nostra vanilla Allora Oh Oh andiamo andiamo oh bene ragazzi il video di oggi dammi a qui iscrivetevi al mio canale lasciate un bel like attivate la campanellina e condividete il video con tutti i vostri amici seguitemi su instagram e se non è francia hd official ve lo scriverò poi in descrizione e con questo sempre se la buca mi provo a rompere ci vediamo in un altro video e ciao a tutti e ciao a tutti ciao 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 ciao